Peta, 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 già lo so cosa direte, già lo so Eh Adri, ma Cagliari ha pareggiato a Stanzino con l'Inter, ha pareggiato con la Juve Sì, 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 importantissimo Importantissimo questo risultato, arrivato a tre giornate dalla fine In un secondo posto che a Juventus si sta impegnando a consegnarti il prima possibile In una stagione dove niente è girato come doveva girare Per evidenti errori che si sono andati a cercare Però il Milan batte 5 a 1 il Cagliari E io ho l'obbligo, secondo alcuni tifosi, di essere contento Dopo tre gol subiti dal Genoa in casa, dopo aver perso il sesto derby di fila Dopo aver pareggiato 0-0 a Torino, dopo aver perso col Monza Dopo aver pareggiato 3-3 col Sassuolo Dopo aver pareggiato 2-2 a Salerno, a Lecce, a Napoli Dopo aver preso 5 gol nei derby, dopo essere uscito in Champions League All'ultima giornata in un girone che era pienamente abbordabile Dopo essere stati eliminati dalla Roma Ai quarti di finale di Champions League, non pervenendo in campo Arriva per la prima volta in questa stagione una partita dove segniamo più di 4 gol Per la terza volta dove ne segniamo più di 3 Perché sono state per ora Torino, Cagliari in Coppa Italia e Slavia Praga Però, però, io devo essere contento Se no, alcune persone si incazzano e vengono a fare dei commenti Io a questo punto mi viene da chiedere come faccio a essere contento Io l'ho detto già dopo la partita con la Roma di ritorno Che ogni risultato a me sarebbe stato totalmente indifferente Però, sapete, è come gli ultimi giorni di scuola Tu andavi a scuola, sapevi già se saresti stato promosso, rimandato o bocciato Però tu gli ultimi giorni di scuola ci andavi lo stesso per fare presenza Ed è quello che stiamo facendo qua su questa sedia, questo studio Noi facciamo presenza Noi, da un punto di vista statistico, di presenza Di, anche di contenuti, noi ci siamo Facciamo quello che dobbiamo fare, però Però Le partite non provocano nessuna emozione Nessuna gioia Nessun dolore Niente Poteva finire 14 a 0, anzi 14 a 1 perché il Milan in Cricito non lo fa mai Sarebbe stata la stessa cosa La cosa che aspetto Che mi farà gioire In maniera grottolosa Sarà la liberazione da questo essere A fine campionato Che doveva già avvenire un anno fa Per diversi motivi non è avvenuta Motivi che io non ho mai trovato giustificanti Al fine di questa scelta E che mi hanno fatto un po' riflettere su quel fatto che Maldini volesse Pirlo Perché Ok che non è un allenatore che Anzi, se ho visto una lista Pirlo sarebbe tra gli ultimi però Visto poi quello che è successo Visto la stagione Piena di figure Di merda colossali Che ne è uscita Vi dirò Pirlo Avrebbe fatto tanto peggio Rispetto A quest'essere qui No perché Mi pongo questa domanda ogni giorno E onestamente E onestamente La risposta non è così scontata Non lo è Non lo è Comunque 5-1 Milan che fa la partita che avremmo voluto vedere Tante volte questa stagione Facile farla in fondo Come l'anno scorso Era la terz'ultima di campionato Pari 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 Che battemmo 5-1 la Sampdoria In casa con Tripletta di Girù Non ricordo Era circa questo periodo qui Forse era una settimana Una terza settimana di 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 maggio All'incirca Però Si vinse 5-1 con la Sampdoria E anche lì Le esultanze erano al minimo Perché è una stagione Buttata al cesso Però Secondo alcune persone Dobbiamo essere contenti Di cosa Non si sa Per certa gente Dobbiamo Essere contenti Del secondo posto E io Mi dispiace Ma non salgo sul carro Del secondo posto Vista la squadra Che a questo Incompetente È stata data in mano E che questi Incompetenti Mille volte più di lui Non hanno avuto il coraggio Di esonerare Nemmeno Nemmeno Nella pausa Degli impegni europei Durante le partite invernali Dove potevi Rifare la preparazione atletica Niente Non avete avuto il coraggio Di esonerarlo Perché Avete Sperato In qualcosa Che era evidente Che non sarebbe mai arrivato Che io Ho già annunciato Un anno fa Che non sarebbe mai arrivato E ci troviamo Qua nella merda Vogliamo parlare Della partita Parliamo della partita Partita Milan ha giocato bene A 5-5-5-1 Voglio vedere se giochi male Ha giocato bene Ripeto È stato il Milan Che avremmo voluto vedere Ma Tardiamo sempre a vedere Il migliore in campo Benna Serra Che trova un gol E un assist Anche Leão Credo Aveva trovato un gol E un assist Sportiello Che avrebbe meritato Sicuramente più minuti Quest'anno Ciao Che finalmente Azzecca una partita Gabbia Che si rivela Anzi Gabbia Apro e chiudo parentesi Perché Gabbia Gioca bene Dove ha giocato Mezza stagione Chi è stato Il suo allenatore Per mezza stagione Uno Che non era Pioli Ecco perché Gabbia Gioca bene Fine Finita la spiegazione E questo dovrebbe bastare Squadra Che ha funzionato E fine Basta Tutto qui Non so veramente Cosa dirvi Ripeto Noi siamo qua A fare presenza Poi Ci sarà Questo europeo E poi Inizierà La prossima stagione Dove Io mi auguro Di vedere un allenatore Con la maiuscola Like e iscrivete In descrizione Domani mattina Live reaction Uscirà quello che uscirà E a me va bene così Ciao